il record occupazionale, l'aumento del reddito medio delle famiglie, una delle due nazioni di tutti i paesi Ocse nei quali aumenta il reddito reale delle famiglie, capisco l'imbarazzo, capisco il nervosismo, reddito medio delle famiglie che aumenta. No Presidente, tanto si sente poco. Dopodiché, per carità, non è che sono una che si spaventa come si sa, però sono stata in religioso silenzio ad ascoltare i colleghi. Non sono numeri che ho inventato, sono numeri di organismi terzi, diciamo così. L'Ocse è un organismo terzo, dice che nel 2023 i salari in Italia sono aumentati da tre a cinque volte tanto rispetto a quando al governo c'eravate voi. Lo spread è ai minimi da due anni. Siamo il primo paese in Europa nella realizzazione del PNRR. Nel 2023 l'Italia è cresciuta più della media europea. Addirittura l'Istat dice che è diminuito il rischio di povertà. E questo mi ha colpito, colleghi, perché io ero rimasta quando la povertà l'avevamo abolita, invece se il rischio diminuisce vuol dire che sta ancora in vigore. La povertà è ancora in vigore. Senatore Croatti, non sapevo che fosse un maestro di musica, lei, complimenti. Dopodiché, due ultime considerazioni. Una sul PNRR e una sul patto di stabilità, sempre alla collega Bevilacqua. PNRR, guardi, sentiamo ripetere questa cosa tutte le volte che veniamo in aula, che grazie alle capacità diplomatiche dell'allora Presidente del Consiglio all'Italia è toccata il più alto ammontare di contributi del PNRR. Temo che non si sia mai letta la direttiva del Next Generation EU, la norma del Next Generation EU, perché la distribuzione delle risorse del Next Generation EU, colleghi, se non lo sapete ve lo dico adesso, non veniva fatta in base a quanto fosse capace il Presidente del Consiglio.